Amici del software libero open source, benvenuti o bentornati in questa 117esima puntata del podcast di Marcosbox. Rieccoci qui in questa nuova puntata del podcast di Marcosbox a commentare con voi le notizie delle ultime settimane appena trascorse dal mondo del software libero open source. È una puntata infrasettimanale, una puntata special che ho voluto fare per non lasciare troppo tempo tra un episodio e l'altro del podcast. Come ben saprete, come avete visto anche, ultimamente ho diminuito la cadenza degli articoli sul blog perché evito di fare i soliti articoli. E' uscita la nuova versione del programma X, è uscita la nuova versione della distro X. Non dedico più tanto tempo alle minor release ma pubblicisco soltanto i programmi e le distribuzioni quando hanno qualcosa di davvero interessante da dire. Comunque, iniziamo questa puntata, iniziamo con un articolo che poi è una recensione pubblicata da Moro Linux. Conoscete di sicuro Moro Linux, è un utente Linux avanzato, famoso per i suoi corsi che pubblica su Udemy, la piattaforma di e-learning che ha prezzi accessibili. Quindi se volete qualche corso inerente al mondo Linux, andate su Udemy e andate a vedere un po' i corsi di Moro Linux perché sono davvero ben fatti. Moro Linux è anche un utente YouTube, è un creator YouTube e pubblica delle video recensioni davvero interessanti, sempre riguardanti il mondo del software libero e open source. E nelle ultime settimane ha pubblicato una recensione sul GinkPad A1. Il GinkPad A1 lo conoscete, ve ne ho parlato diverse volte sulle pagine del blog, ve ne ho parlato diverse volte sul podcast. E' stato pubblicizzato come il primo tablet consumer ready basato su Linux con tecnologia ARM. Io personalmente ho sempre avuto dubbi su questo progetto, in particolare anche sulla riuscita perché sono pessimista di natura per quanto riguarda prodotti equipaggiati con Linux. Nel corso delle ultime settimane ci sono state diverse recensioni del GinkPad A1, principalmente di autenti che avevano ricevuto il tablet in prova. E in queste recensioni però nessuno si è mai soffermato ad analizzare davvero il sistema operativo e il codice sorgente. Fortunatamente a far luce su queste cose ci ha pensato il buon MoronLinux che nella sua video recensione ha mostrato quali sono le promesse non mantenute di questo tablet. E di fatto ha svelato il segreto di Pulcinello perché oramai si vociferava nei canali Telegram nelle ultime settimane da parte degli utenti che per prima avevano ricevuto questo prodotto. Ovvero che il fatto che il GinkPad A1 di fatto non è un tablet Linux ma è un tablet Android che segue Linux mediante un layer di astrazione. Quindi tutta quella narrativa che era stata fatta su questo prodotto va un po' a cadere. Vi rimando alla sua video recensione dove spiega tutto, dove vi fa vedere quali sono le criticità del prodotto, come gira e che dire, l'ennesimo prodotto che va a deludere noi utenti Linux. Che poi ci sarebbero da dire tante cose su questo progetto ma mi limito semplicemente a riportare una battuta che ha fatto Daniele, mio amico Daniele, dicendo a confronto lo Stonex era un gran bel progetto. E chi ha seguito lo Stonex, il progetto Stonex, sa di che cosa sto parlando. E mi sa che facendo questa battuta mi sono ufficialmente giocato ogni possibilità di poter avere un GinkPad A1 in prova, quindi... Vabbè, spiace. Gli utenti di Ubuntu 20.04 LTS e sue derivate ufficiali e non ufficiali di sicuro sapranno che all'interno dei repository dell'ultima LTS di casa Canonical manca il pacchetto di Emule. Emule che cos'è? Un client multiplattaforma per la rete P2P Redonkey, che viene utilizzato anche per scaricare cose legali, quindi non fatevi strane idee che chi utilizza Emule lo utilizza solo per fare lo hacker, diciamo così. Dicevamo, non è presente all'interno dei repository di Ubuntu 20.04, per un motivo che adesso non mi ricordo nemmeno più, se non ricordo male era perché il pacchetto non era giunato, insomma, alla fine gli sviluppatori e i manutentori di Ubuntu decisero di non includere il pacchetto di Emule su Ubuntu 20.04 FocalForce. Mi sembra che perché non era stato aggiornato, una cosa del genere. Vabbè, fatto sa che poi il pacchetto fu reintrodotto nelle versioni successive, quelle semestrali di Ubuntu, e se non ho capito male dovrebbe essere presente anche sull'ultima LTS di... anzi, sulla prossima LTS di Ubuntu. Perché vi ho fatto tutto questo preambolo? Perché qualche anno fa ho pubblicato sul blog una guida che spiegava come installare manualmente Emule su Ubuntu 20.04 LTS e sue derivate. Consisteva soltanto nello scaricare una serie di pacchetti della versione precedente di Ubuntu e installarli manualmente. Qual era il problema? che quella guida puntava a dei pacchetti della precedente, della penultima versione, la 2.3.2 e quindi era una guida da aggiornare, da svecchiare. Qualche giorno fa, cogliendo l'occasione di una mail di parte di un lettore che mi chiedeva informazioni in merito, perché me ne arrivano tantissime di mail di questo tipo, ho deciso di aggiornare la guida, di farne anzi, di farne una nuova spiegando come poter installare l'ultima versione di Emule quindi la 2.3.3 su Ubuntu Focal Fossa mediante un PPA di terze parti mantenuto da un utente tale Marcos Arse Gomez è una guida che è più semplice rispetto alla guida che avevo postato in precedenza perché si tratta soltanto di aggiungere il PPA aggiuntivo e andare a installarsi Emule oltretutto poi l'autore di questo PPA ha detto che da quel che si è capito ha l'intenzione di mantenerlo aggiornato quindi se uscirà una nuova minor release verrà aggiunta all'interno dei repository e quindi aggiornirete in maniera automatica non ci sarà bisogno di andarsi a riscaricare il pacchetto è via utile? Spero di sì spero che vi sia piaciuta passiamo adesso a una notizia che arriva dal ciclo di sviluppo di Ubuntu 22.04 LTS la prossima LTS di casa Canonical è stata fatta da parte di uno degli sviluppatori di Ubuntu una proposta per eliminare il repository Canonical Partner in funzione dello Snap Store il repository Canonical Partner è conosciuto da tutti quanti gli utenti Ubuntu in passato serviva per proporre alcune applicazioni proprietariche o sed source come pacchetti come Google Cloud SDK il plugin per Adobe Flash ma anche pacchetti vari come i clienti di virtualizzazione WMUR nel corso degli anni però questo repository è andato man mano svuotandosi basta pensare che sulla 20.04 di Ubuntu l'unico pacchetto presente era l'Adobe Flash plugin che poi a partire da Ubuntu 20.10 questo repository è di fatto rimasto vuoto perché è stato rimosso il pacchetto riguardante il plugin Adobe Flash perché come ben saprete Flash è morto da qui è stata fatta darci la proposta di questo sviluppatore del team di sviluppo di Ubuntu di eliminare totalmente questo repository per la prossima righe TS è una cosa sensata perché di fatto è vuoto e da quel che si è capito non verrà più aggiornato non verrà più rimpinguato con applicazioni di terze parti anche e soprattutto perché gli sviluppatori di terze parti preferiscono utilizzare lo Snap Store per caricare le proprie applicazioni e quindi di fatto quella di eliminare questo repository è la scelta più logica da compiere e comunque se avete un po' di tempo passate sul blog a lasciare un commento perché nell'articolo che ho pubblicato al riguardo si è aperta una discussione sul senso sull'utilizzo di Snap perché saprete bene qual è il problema di Snap rispetto ad altre tecnologie come Flatpak Snap vi è portato avanti da Canonical però ad alcune lacune in primis delle prestazioni nettamente inferiori sia ovviamente un pacchetto installato normalmente ma anche rispetto ad altre soluzioni rispetto a Flatpak fate una prova installate che ne so Firefox da Flatpak e Firefox da Snap e andate a vedere i tempi di caricamento sono per app in formato Flatpak è praticamente istantaneo come se fosse un'app nativa per l'applicazione in formato Snap ce ne vuole per partire soprattutto se avete installato il vostro sistema operativo su un hard disk meccanico ed è anche una cosa che fa riflettere perché Canonical sta spingendo in questa direzione nella direzione dei pacchetti in formato Snap e a tal punto che sulla prossima versione LTS di Ubuntu Firefox sarà in formato Snap io lo sto utilizzando Firefox in formato Snap su KDE Neon e sì lo sto utilizzando perché ho detto ma fammi vedere un po' anche per seguire lo sviluppo per vedere se riescono a velocizzare il tutto però attualmente ha delle prestazioni pietose ci mette davvero tanto tempo per caricare poi ci sono alcuni limiti per quando riguarda alcuni problemi per l'accesso a alcune cartelle Canonical lavoraci un po' bene su sto cacchio di Snap se lo vuoi proporre puoi non dire che ce l'hanno tutti con te passiamo adesso a parlare di Linux Mint e Debian Edition perché ci sono delle buone notizie per tutti quanti quegli utenti che apprezzano, che amano questa distribuzione per chi non la conoscesse Linux Mint Debian Edition non è altro che Linux Mint basata su Debian è una distribuzione che è stata rilasciata come piano B nel caso di abbandono di Ubuntu ma che nel tempo è servita anche ai sviluppatori di Linux Mint perché gli consente di mettere mano ai pacchetti di Debian per poter testare prima diciamo così le novità che poi approderanno sulle versioni quelle classiche di Linux Mint basate su Ubuntu perché sapete la loro volta Ubuntu si basa sul frizz dei pacchetti di Debian quindi è tutto un derivato di un derivato di un derivato madonna mia perché vi parlavo di Linux Mint Debian Edition perché Clement Lefebvre nel suo consueto recap mensile dedicato allo sviluppo di Linux Mint ma anche allo sviluppo di Cinnamon del recap delle donazioni perché ogni mese fa un articolo al riguardo è molto trasparente sotto questo punto di vista ha annunciato che il team di sviluppo di Linux Mint è al lavoro su Linux Mint Debian Edition 5 ed è al lavoro già da inizio gennaio 2022 e a breve se tutto andrà per il verso giusto rilasceranno la versione beta di Linux Mint Debian Edition 5 che dovrebbe essere pubblicata entro febbraio quindi se entro febbraio rilasciano la beta per il mese di marzo dovrebbe arrivare in forma stabile le patch che il team di Mint applica a Ubuntu sono state già trasferite su Linux Mint Debian Edition sono stati aggiornati gli stack rispetto a quanto pubblicato su G20.0 hanno fatto tutti i backport tutti i pacchetti sono pronti e dai test effettuati l'immagine ISO di Linux Mint Debian Edition 5 si avvia si installa correttamente e non ci sono delle criticità all'orizzonte quindi buone nuove buone nuove per tutti quanti gli utenti che amano Linux Mint Debian Edition che amano Cinnamon perché ricordo che Linux Mint Debian Edition viene rilasciato soltanto nell'edizione classica con Cinnamon e vabbè l'ultima cosa che vi voglio dire è che ovviamente questa nuova versione di Linux Mint Debian Edition si baserà su Debian 11 è anche una cosa positiva per gli utenti che attualmente utilizzano Linux Mint perché rispetto a l'edizione standard di Linux Mint quindi quella basata su Ubuntu la versione basata su Debian offre software più recente rispetto a quello presente nei repository di Ubuntu 20.04 quindi sarà anche più aggiornata rispetto rispetto all'edizione quella classica voi utilizzate e avete provato in passato questa distribuzione fatemi sapere e lasciate un commento sulle pagine del blog prima di passare agli ultimi due argomenti di questa puntata del podcast di Marcos Box apriamo e chiudiamo una parentesi con un argomento che non c'entra nulla con il mondo di software libero open source però è un argomento che di sicuro interesserà molti di voi all'ascolto e il mio caro amico Fatima ha pubblicato un articolo riguardante una notizia importante ovvero il consiglio dei ministri ha approvato la riforma del registro pubblico delle opposizioni con il telemarketing aggressivo il registro pubblico delle opposizioni lo conoscete è già attivo per i numeri di rete fisse ed è uno strumento che consente all'utente di rifiutare i consensi alle chiamate promozionali o l'invio di materiale pubblicitario indesiderato qual è la novità della riforma è che adesso questa funzione sarà disponibile anche per i numeri di rete mobile quindi i celluari bisognerà però comunque attendere 120 giorni dalla sua pubblicazione in gazzetta ufficiale quindi se ne parlerà fra un paio di mesi affinché questo affinché il registro il nuovo registro pubblico delle opposizioni possa essere attivo speriamo che con questo strumento riusciamo a mettere un freno a tutte queste operazioni di telemarketing che veramente stanno arrivando a dei livelli assurdi io non so voi ma io mi ritrovo tempestato di telefonate su cellulare sia da numeri che poi della volta uno risponde perché vede magari un numero di cellulare magari è qualche amico magari qualcosa è di lavoro che qualcuno che mi sta contattando e vai a rispondere alla tua parte e ti ritrovi la vocina computerizzata che ti sta proponendo Enel ti sta proponendo che ne so il cambio di tariffa ti sta proponendo azioni Amazon che non lo so ultimamente stanno arrivare pure un sacco di telefonate di queste cose ma non so voi se siete vittima anche voi di queste cose e sto vedendo che stanno riuscendo a bucare anche i filtri del filtro antispam del dealer di google e quindi sto sempre a fare segnala 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 e vabbè speriamo speriamo che questo strumento possa essere utile e possa essere funzionale ma veniamo adesso all'ultima parte di questa puntata del podcast di marcosbox con due hands-on che sono stati pubblicati dal nostro caro luca luca ci sta prendendo gusto con i suoi hands-on e sto vedendo che stanno avendo anche un notevole successo sia in termini di visualizzazioni che di commenti sia sulle pagine di marcosbox che sui canali collegati luca ha messo sotto la sua la sua lente di ingrandimento due derivati di debian due derivati di debian però gli opposti che sono molto discusse e molto anche apprezzate dalle proprie community e che negli ultimi anni si sono fatte notare anche all'interno delle classifiche che vengono pubblicate sui vari siti e quant'altro il primo hands-on riguarda D-Pin Linux la famosa distribuzione cinese che ha sede One questa cosa mi inquieta molto sapete One che cosa è la sede e l'altra invece riguarda MX Linux andatevi a leggere gli articoli andate a lasciare un commento fatemi sapere che cosa ne pensate partecipate alla discussione perché partecipare è sempre bello e con questa ultima notizia si conclude qui questa 117 puntata del podcast di Marcosbox e vi ricordo come sempre di iscrivervi ai canali social di seguire il blog su tutti quanti i vari piattaforme e vi invito ulteriormente anche anche in questa puntata a iscrivervi ai canali Telegram perché su Telegram sono disponibili tre canali c'è il canale ufficiale che praticamente potete utilizzarlo come feed RSS per le notizie da Marcosbox il canale della community Telegram di Marcosbox ed infine il il canale dedicato alle offerte Amazon di Marcosbox se volete supportare il blog acquistando prodotti utilizzando il mio codice referral Marcosbox trattino 21 che vabbè se acquistate direttamente dal link potete acquistare direttamente sia dal link che trovate delle varie offerte che pubblico sul canale sul canale Telegram oppure potete cliccare sul banner che trovate all'interno della pagina di Marcosbox il banner di affilazione cliccando lì poi effettuando l'acquisto dovrebbe essere in automatico non ho mai capito come funziona dovrebbe essere riconosciuto il referral e quindi se acquistate qualche prodotto su Amazon che vi serve Amazon mi dà una piccola percentuale del vostro acquisto voi non pagate nulla però contribuite a supportare il blog lunga vita e prosperità a tutti quanti ci riascoltiamo forse la prossima settimana con la prossima puntata del podcast di Marcosbox l'unico podcast con l'autore che si imparpina quando parla e non fa nemmeno tagli